Benvenuti a Pine Grove! Benvenuti a Pine Grove! Qui ci si siede solo sei invitati. State scherzando? Grazie al cielo starò qui solamente per un mese. Noi li chiamiamo le aperiti. Sono delle vere caroni. Stai flirtando con me? Sì! L'altra sera tu hai iniziato a ballare e ho pensato che non ci fosse niente di più bello. Siamo noi le ragazze più cool? Ma sei dei nostri? Credo di sì! Per il ciclo Destinazione Amore In prima visione Ma che cosa è successo? Ehi! Siamo le api regine e nessuno ci può fregare. Quindi emozioni senza età questa sera alle 21 e 25 Rai 1